Marcello Cimino, giornalista dell'Ora. E' proprio partendo da una serie di articoli di Marcello Cimino apparsi sull'Ora in tre puntate, recentissimamente, nel 1987, cioè nell'anno scorso, sul processo Lipari, che è nata l'idea di creare questa serie di servizi per risvegliare l'attenzione morale e civile attorno al processo che si sta trascinando nel Palazzo di Vetro, nel Palazzo di Giustizia di Trapani. Ed è, in qualche modo, la testimonianza di Marcello Cimino eccezionale, perché otto anni fa, il 13 agosto di 1980 veniva ucciso Vito Lipari, il sindaco democristiano di Castelvetrano, e fu Marcello Cimino inviato da allora a botta calda, diciamo. Abbiamo quindi l'occasione di ricostruire, di fare un affresco di quella che era la situazione politica e la situazione, cioè di raccogliere le voci e dare informazione su come fu quel momento in Castelvetrano, come reagirono gli uomini politici, le forze politiche, che cosa si diceva e qual era l'atmosfera e l'ambiente. Marcello Cimino, otto anni fa a Castelvetrano, è appena morto il sindaco democristiano Vito Lipari. Eh sì, io ho un ricordo preciso, proprio nettissimo di quella giornata. Io sono andato a Castelvetrano, fu inviato dal giornale per i funerali, cioè due giorni dopo il delitto, e c'era questa calda giornata d'estate, credo che fosse addirittura il 15 agosto, e c'era un'atmosfera molto tesa, molto impegnata in quella città, c'era una gran folla per le strade. Io ho seguito il corteo che era molto lungo, molto teso, con le facce cupe, chiuse, che andava al cimitero. Poi ci fu la cerimonia dentro il cimitero e ricordo, io ero lì in mezzo, lì vicino, i discorsi, coglievo i discorsi dei compagni di partito del morto, cioè i consiglieri comunali di Castelvetrano. Poi arrivò il vice segretario nazionale della DC, che era Vittorino Colombo. E l'impressione che subito ebbi fu di straordinaria contraddizione, fra la sensazione che c'era in tutti, in me, abbastanza ad usato a decifrare gli avvenimenti, ma anche nella gente, fra la singolarità di questo delitto e la precisa caratterizzazione, come un delitto di mafia. Lui era un uomo potente, un uomo in ascesa, fu ucciso con modalità inequivocabilmente mafiosa, lagguato e tipico. E invece i discorsi di questi democristiani di quel paese e poi del vice segretario nazionale della DC, che negava, aveva un tabù così rigoroso sulla parola mafia e persino sulla parola omicidio. Io ricordo che questi consiglieri, Vittorino Colombo, disse che il suo amico Vito Lipari era stato ucciso da una violenza, parola astratta, non da violenza, da una violenza senza volto e senza nome, più lontani di così dalla realtà che si veneva nell'aria, si respirava nell'aria, dalla realtà di violenza mafiosa, concreta, precisa, probabilmente identificabile, abbiamo saputo dopo identificata, non si potrebbe. I democristiani, consiglieri che andavano poi dopo il funerale alla riunione del Consiglio Comunale convocato in via di emergenza, erano violentissimamente polemici contro i comunisti i quali avevano presentato un'ora del giorno in cui si identificava la violenza mafiosa, identificandola proprio con le parole come causa di questo delitto, come responsabilità di questo diritto. Abbiamo visto le pagine degli annunci mortuari sul giornale di Sicilia pubblicate numerosissime, una pagina piena, colpisce leggendo il modo anche qui astratto, non compare mai la parola mafia, ci sono molte sezioni della democrazia cristiana ma anche del partito socialista, del vice sindaco Vincenzo Leone, non compare mai questa parola. Sì, sì, questo mi colpì, di fatti poi ho messo da parte queste pagine per due giorni successivamente, uscivano in cui c'era proprio questo evidente rispetto di questo tabù della parola mafia e addirittura della parola assassino. Moltissimi scrivevano le loro condoglianze, sia parenti, amici oppure organizzazioni collaterali, le condoglianze, la famiglia come se il poveretto fosse morto nel suo letto, oppure tragica fine in un incidente automobilistico, ma la parola ucciso è usata in un piccolissimo numero di annunci mortuari, nella maggior parte dei casi la parola ucciso o assassino non compare. Poi Marcello Cimino torna alla sua attività quotidiana di giornalista, questo delitto in qualche modo scompare, sembra diventare uno dei tanti delitti senza nome appunto, che si possono identificare mai né mandanti né esecutori, e improvvisamente nel 1987 ricompaiono tre tuoi articoli, molto grossi, molto lucidi, a piena pagina, presi da quale fonte? Come ti rispunta la passione su questa cosa e da dove le fonti? Ecco, avevo un po' archiviato questo delitto come uno dei tanti delitti, perché dall'80 all'87 ne sono successe di cose in Sicilia da archiviare o da non archiviare, insomma cose pendenti. Ho trovato una notizia su uno dei giornali quotidiani di Palermo, una piccola notizia che era stato fissato il processo per l'elitto libero. Da questa piccola notizia che usciva da un lungo silenzio, da una lunga chiusura di informazione, ho appreso quindi che c'era stato un istruttore che c'erano degli imputati e che il processo si sarebbe celebrato davanti alla Corte Assisi. Allora mi sono molto incuriosito e mi sono procurato la sentenza di rinvio a giudizio, che è un documento che poi l'ho letto e sono stato colpito dalla eccezionalità di questa fredda, distaccata tecnica ricostruzione fatta da questo giovane giudice del quale io non avevo mai sentito parlare prima e del quale poi non ho mai più sentito parlare dopo perché non so che fine abbia fatto, non lo so, a Trapani si saprà, è stato trasferito, non è più lì. Questo giudice si chiama Divitale, ha scritto una, ma neanche cento pagine, di una sentenza di rinvio a giudizio istruttoria così documentata, così stringata e così persuasiva che mi ha molto colpito come documento giudiziario. Allora ne ho cavato non tre ma quattro servizi, un riassunto con tutte le notizie ricavate dalle pagine di questa sentenza che mi rendo conto, non per mio merito, ma per il merito dei fatti, delle cose che sono lì raccontate, sono abbastanza interessanti, suscitano molto interesse e curiosità. Nel squadra di fuoco, nel nucleo dei killer che uccidono Vito Lipari ci sono due personaggi fra virgolette eccellenti di Cosa Nostra, un catanese, Nitto Santa Paola, sono tre catanesi e due quelli di Mazzara del Vallo, tra cui c'è Maria Nogate, questi sono i nomi di spicco, Maria Nogate che è indicato da Buscetta nel maxiprocesso come uno degli appartenenti della cupola, Nitto Santa Paola, che è il killer, o indicato come il killer del generale della Chiesa, è di Alfio Ferlito, cioè due personaggi di estremo spicco e un delitto che vede incrociate due famiglie, insomma, quella catanese e quella di Mazzara del Vallo, quindi un delitto che ha tutta la caratteristica dell'eccellenza. Da questa sentenza di rinvio a giudizio si dessume, si ha la controprova di certe verità, certe acquisizioni della cultura antimafia, che sono poi recentissime, venute fuori al maxiprocesso, ma che allora, nell'80, delle quali non si aveva idea, che sono proprio paradigmatiche degli ultimi sviluppi della mafia, ultimi, forse penultimi, cioè quelli che arrivano al maxiprocesso di Palermo, che sono la presenza dei catanesi in alleanza con le più forti famiglie mafiose dell'Occidente, della Chiesa occidentale, finora si sapeva di Palermo, il delitto ferlito da te ricordato è tipico di questa, è quello dalla Chiesa, ma questo di Trappari è il primo, il primo evento in cui questa alleanza operativa, cioè i catanesi non avevano un interesse diretto all'uccisione di Vito Lipari, però lo facevano in ottemperanza a una legge, a un accordo, a un'alleanza delinquenziale che c'era fra i potentissimi mafiosi di Trappari di allora e i catanesi. Il delitto è tipicamente, il gruppo di fuoco si fa, si coordina, organizzano l'agguatto nei minimi termini e solo per un incidente, direi abbastanza imprevisto, banale, non per loro inefficienza, per un caso vengono identificati, scoperti. Però c'è il secondo aspetto che colpisce e che il giudice ha descritto, analizzato con una minuzia e con una precisione accusatoria formidabile che scatta subito, questo colpisce, impressionante, come scatta subito un sistema di protezione tipicamente mafioso, ma in questo caso aggravato dall'entrata in scena dei carabinieri di Catania e questi carabinieri partono da Catania per scaricare, per dimostrare agli inquirenti di Trappari che questi poveretti presi lì non c'entravano niente, incapaci di uccidere ed erano degli assassini, erano Mangion, Romeo e Santa Paola e li tirano fuori dall'ingrenaggio della giustizia dove erano incappati, li tirano fuori e li mettono in libertà. Il Santa Paola che era stato fermato lì, sospettato dell'omicidio, ora naturalmente è latitante e sul suo capo ci sono moltissimi altri omicidi gravi, ma allora si mossero. La bravura del giudice che mi ha colpito è non solo di aver identificato tutti questi meccanismi di depistaggio abbastanza sofisticati, ma di essere arrivato fino a denunciare, a mettere sotto accusi, indicare un con il Carabinieri. Questo fa pensare che l'apparato di protezione di questi mafiosi catanesi da parte di alcuni funzionari ufficiali dei Carabinieri del Catanese preesistesse. Cioè quando lui incappò nel posto del blocco e fu fermato e quindi corse il rischio di essere incriminato per quel delitto che aveva commesso, non è che creò, dice vediamo chi mi può aiutare. No, c'era già l'impressione che dà il giudice descrivendo questi eventi nella sua sentenza è che esisteva già questa apparecchiatura di protezione che fu messa in moto rapidamente, il giudice spiega anche come mai, perché uno dei fermati fu rilasciato prima e allora ebbe tempo di telefonare, mettere in moto per cui arrivarono, questo colpisce, arrivarono mandati da Catania per ordine di un colonnello il quale era in ferie, due Carabinieri, un capitano, un maresciallo, che spiegarono ai Carabinieri di Mazzara che questi poveretti certamente non potevano essere assassini e li fecero in modo che venissero messi fuori. Bisogna dire però che questa, a parte poi uno dei Carabinieri, un ufficiale, è imputato nel processo, un altro non è imputato tecnicamente ma ne esce fuori molto male, ma il comando dei Carabinieri ha subito messo in moto delle sue indagini interne e sono abbastanza severi, cioè appena un ufficiale dà sospetti, di fatti questi qui sono stati subito sanzionati per via amministrativa disciplinare all'interno dei Carabinieri perché anche loro il comando di Palermo si rese conto della gravità di questi eventi. C'è un altro momento inquietante perché la prima versione è anche questa che ha tutto del paradossale, siamo a Ferragosto, i catanesi partono, si fanno 380 km, stiamo parlando di Nitto Santa Paola, Mangione, Rosario Romeo, poi deceduto e sostengono in prima versione che si sono recati fino a Castelvetrano con il caldo torrenziale del Ferragosto per acquistare dei meloni a Castelvetrano da Maria Nogate che non è propriamente un venditore di meloni. In una fase successiva c'è una correzione, si parla invece di catanesi, appunto questi tre che si spostano per punire una serie di attentati dinamitardi che avrebbero inquietato allo svolgimento dei lavori della ditta Gracie, uno dei cavalieri del lavoro catanesi, in una diga vicino a Paceco e anche questa voce salta fuori, viene chiesto dal giudice da dove è stata raccolta questa voce all'interno dei corridoi dei carabinieri di Catania. Questo è un altro elemento in più inquietante rispetto a queste connessioni alla precisione e elevatezza del gruppo di fuoco di Castelvetrano. Nella ricostruzione che fa il giudice è fra virgolette divertente il succedersi da lui registrate delle versioni giustificative, perché ci sono questi signori che vengono trovati nei pressi del luogo del delitto, tre catanesi con due mazzanesi, persone tutte sospette con precedenti eccetera eccetera. Perché siete qua? Nella prima risposta siamo venuti a comprare meloni e stranamente i compratori, i presunti compratori non hanno mai commerciato in ortofrutticoli e il presunto venditore non ha mai commerciato nella stessa campo perché è un imprenditore, figura come imprenditore. Allora incalzati dalle indagini allora dice no la verità è, viene fuori la seconda versione, la verità è che noi siamo venuti per proteggere il signor Graci che è un grosso imprenditore catanese e il quale sta costruendo una dica e ha avuto dei guai, dei sabotaggi. Tipica situazione mafiosa naturalmente perché chi fa i sabotaggi ha un'impresa di costruzione dei mafiosi che chiedono l'estorsione, chi viene per difendere l'imprenditore è degli altri mafiosi. Insomma allora in sostanza questi si capisce, si intuisce, preferivano farsi riconoscere come mafiosi in funzione di pacieri anziché come killer, come assassini. L'altro aspetto però divertente, direi abbastanza, è questo particolare, fermati i tre catanesi dai carabinieri per routine gli viene fatto il guanto di paraffina. Appena sente parlare il guanto di paraffina il Santa Paola dice un momento, però io ieri ho sparato. Dove hai sparato? Io sono stato a caccia, mi sono divertito a sparare, sparavo alle quaglie e dove? Nella tenuta del Cavaliere Costanzio che è un mio amico, si fa l'inchiesta per sapere se questo alibi era evale, si appura che uno dice sì, gli ho prestato io il fucile e lui sparava alle quaglie, un altro dice no, il fucile l'aveva lui e sparava alle lepri o alle volpe che so io, un altro dice sì, è venuto alle sette e mezzo. Insomma era talmente di ferro questo alibi, consistente nell'avere sparato nella villa del Cavaliere Costanzio, che aveva tre versioni diverse, alle sette e mezzo di orario, di qualità, di tipo, di caccia fatto, abbastanza curioso. Il giudice naturalmente facilmente riesce a smontare questo alibi fasullo. Torniamo oggi al processo nel Palazzo di Giustizia di Trapani, un processo che ha le classiche caratteristiche del processo déjà vu, diceva Marcello Cimino prima, del processo di tipo antico, lentissimo, che va avanti con continui rinvii, pieno e fitto in maniera incredibile di non so e di non ricordo, di imputati che continuamente è il caso di riservato che per mesi è ammalato, allora viene trascinato in barella. Agate che è processato a Maxi Palermo dice dobbiamo prima aspettare la sentenza del maxiprocesso e poi vedere, lì viene condannato a 22 anni. Questo processo, Marcello Cimino? Io non saprei che dire, non riesco a fare una previsione. Il maxiprocesso di Palermo che ci ha tenuto impegnato, ha tenuto impegnato la nostra attenzione per tanti mesi, aveva delle caratteristiche, voglio dire, moderne, nuove, di una fase nuova di lotta giudiziaria contro la mafia e ha avuto un risultato, io credo, positivo, cioè ha riconosciuto l'esistenza della mafia, l'esistenza dell'organizzazione, eccetera. Questo processo, per quel poco che le croniche ne informano, perché si segue pochissimo, non si riesce a sapere, a meno che non si vada lì, dai giornali si segue appena, qua e là, ogni tanto c'è una piccola notizia, si dà l'impressione, queste notizie danno l'impressione che sia un processo, come dicevo, all'antica, come tanti processi, ma non pochi anni fa, i processi degli anni 50, quando c'erano stati uccisi i sindacalisti, Placido Rizzotto, il Carnevale, Battaglia, questi uomini dalla sinistra uccisi, per cui in alcuni casi rari furono dai carabinieri, per esempio nel caso di Rizzotto, gli assassini di Rizzotto, Luciano Liggio e i suoi compiti furono arrestati, denunciati dall'allora capitano dalla Chiesa, poi però arrivati al processo, attraverso le mille astuzie di depistaggio, di confusione tipiche di quei processi, si è arrivati alle assoluzioni per insufficienza di prove, tipico esito dei processi di delitto mafioso quando intervengono questi metodi, diciamo, di evazione, di beffa, di beffa alla giustizia, perché in certi casi la giustizia viene proprio apertamente beffata e i giudici costretti, dico, non so se sempre fossero, a non condannare, impediti di condannare i colpevoli, chiaramente indicati. Questi sono delitti che tornano alla memoria, questi sono processi che tornano alla memoria da anni lontani e questo dà l'impressione che si ripeta questa tecnica di beffa alla giustizia. Speriamo che non sia così, il processo è ancora in corso e mi auguro invece che abbia una conclusione positiva come l'attesa di giustizia di tutti comporterebbe. Dopo un breve stacco pubblicitario riprende l'intervista Marcello Cimino. Intanto in qualche modo è stato creato un velo di disattenzione attorno a questo processo appunto. Concludiamo questa intervista a Marcello Cimino chiedendogli un'opinione sulla qualità delle fonti di informazione oggi siciliane e sulle cose di Sicilia, sia per quanto riguarda la carta stampata, sia per quanto riguarda le televisioni. Per quanto riguarda le televisioni, ti dico, non sono in grado di giudicare perché non seguo, non riesco a seguire i notiziari televisivi se non sporadicamente. E per quanto riguarda i giornali, e per cui non so, penso che ci siano delle buonissime fonti di informazione e televisione, non lo so, mi auguro che sia così. Per quanto riguarda i giornali, debbo dire che purtroppo c'è un po' di vuoto, di insufficiente presenza sul fronte, non dico dalla lotta alla mafia, ma dell'informazione, dell'informazione sulla mafia, dell'informazione consapevole, insomma, dell'informazione fatta col senso civico di chi vuole la verità, vuole la giustizia. Io non vorrei entrare in dettaglio, ma ci sono, insomma, i maggiori giornali siciliani informano soltanto quando ci hanno... non ricercano la verità, riferiscono più o meno completamente o esaurientemente quel tanto che fanno invece i magistrati, la polizia, quel tanto di ricerca, di indagini che fanno... l'epoca delle indagini autonome dei giornalisti mi pare è un po' il ricordo di epoca eroica del passato, l'epoca dei Fava, dei De Mauro, i quali non a caso non ci sono più fra di noi. E questa è una... in qualche modo una... una preoccupante delega alla magistratura alla lotta alla mafia, è una di quelle cose che proprio i magistrati, il pool antimafia denuncia continuamente. Non possiamo delegare alla sola magistratura la lotta contro la mafia, ma se questo giudizio corrisponde è proprio... Vorrei dire, non sono preoccupato io di questo, perché in passato c'era magari una ricerca, una minima parte dell'informazione, per dire il giornale della sinistra, per dirla chiaramente, che facevano... erano loro delegati dalla giustizia a fare le ricerche. Io torno all'esempio del delitto Rizzotto, chi è che disse il nome di Luciano Liggio come assassivo? E lo fece la voce della Sicilia, che era il giornale del Partito Comunista di Palermo di allora, e poi quello lì è stato assolto, ma la magistratura non portava... cioè il rapporto ora è invertito, nel senso che più attivo... ma insomma il mestiere dei magistrati è quello di scoprire i delitti e di punire i colpevoli, non è dei giornalisti, per cui non chiamerei preoccupante delega, preoccupante un po' minore attenzione, ma che i magistrati facciano quello che fanno oggi rispetto a quello che facevamo in passato, c'è da esserne soddisfatti e mica preoccupati. Grazie.